Io sono tutta un'altra cosa, sono la sposa del caffè, sono una caffettiera appunto, siccome sono livornese. Prima di tutto ci schiocca un verdè che ci sta sempre bene. C'era un re seduto sul sofà che disse alla sua serva raccontami una storia, la voglio imparare o a memoria così la storia cominciò. Meno male che le pecore erano tenute in cattività, sennò chissà quanti altri morti ci sarebbero stati. Sono diventata una vera e propria conosciutrice di bagni. Eh no, ha scavalcato pure la fila di pure potenze e voleva entrare. Eh no, per una volta nella vita spettentuno. Questo testo è dedicato al figlio che ho sempre desiderato e a tutte le persone che si amano. Bella! Vai anche se qui? Eh beh, a far corso di bannino. Scopri che la voce della verità non è assurdante ma leggera. Uno sembrava Captain Harlock con una grossa band sull'occhio. Sono seduta sulla navetta dell'aeroporto che porta l'aereo. Capiamo che cerca le medicine e salva vita, forse per l'asma, forse per il cuore. Questo brano l'ho scritto, questo raccontino l'ho scritto quando avevo 9 anni. E' dedicato al padre che avrebbe anche. E' Pisano! E noi siamo Livornesi! Avete capito se ci incontrano e ci fanno fuori! Ma caro mi Romeo, perché sei tu Romeo? Ma che dolore inconsonabile! Ma che suicidio per quel Pisano di... ... ... ...